Quando a una donna gli parli di sesso, lei abbassa lo sguardo per vedere se l'è vero. Errores, esto no es agriturismo, esto es, come dire, gasolar de noatri. Quando la natura chiama, che bisogna fare? L'uomo risponde. La facciamo schiattare di invidia la spagnola. Andiamo in scena. Natale 1995, i laureati. Natale 1996, il ciclone. Ma perché non dormono in casa? Io gliel'ho detta a uno, venite, vi preparo il letto. E lei invece mi ha risposto, oh no, oh no, la vuoi dormire nell'aiola. Se faccia, vieni il telefono, ce l'ha a fare. Maschista. Tienes calore? Parecchissimo calore, davvero. E figlio quasi fuoco. Pirivi! Oh via, che ci fa? Si chiedi conto? Tienes calore! Pa!